Salve a tutti e bentornati, in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo vi spiego come migliorare così l'immagine, la qualità video su tutti i giochi, quindi aumentando anche la nitidezza, se hai anche avuto problemi proprio di risoluzione molto bassa e da lontano riesci a vedere bene il nemico oppure i paesaggi, quindi vedi un po' sfogato, graficato, distanza visuale ridotta, è possibile migliorare la qualità attraverso i nostri pannelli per configurare la nostra scheda video, per esempio una 1660 Super, una scheda grafica Nvidia, quindi oggi andrò a usare questi programmi Nvidia App, il Nvidia Panel Control, questo qua, invece per quelli che hanno AMD devono per forza usare un programma che si chiama Software AMD, quindi l'applicazione Adrenaline Edition, tutto in descrizione, quindi in questo caso sempre andare su display e vedere se c'è migliorare così la qualità video su tutti i giochi attraverso anche la nitidezza, quindi adesso vi faccio vedere su Nvidia App cosa bisogna fare, quindi andiamo su Nvidia Grafica 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 Andiamo così a prendere un gioco, quindi adesso vado a prendere il gioco Fortnite Vado direttamente su, quindi in questo caso va direttamente su impostazioni globali, vado direttamente su ridimensionamento immagini, ci clicco sopra attivato, risoluzione, rendering, lo metto su 75 ovviamente aumentando anche la nitidezza ci sarà anche un calo di FPS, però questo è per migliorare anche la qualità video sul gioco poi una volta fatto andiamo direttamente su modalità bassa latenza, lo metti su Ultra Tecnologia Monitor, se lo metti compatibilità G-Sync e una volta fatto vai direttamente su l'altro pannello di controllo di Nvidia che ho lasciato in descrizione che questo qua ha anche più funzionalità, quindi gestisci le impostazioni in HD, impostazioni programma e qua aggiungi così il programma vado direttamente su il mio volume dove tengo il gioco Fortnite, Fortnite Game, Binary, S64, eccolo qua, Fortnite Launcher punto ex, faccio apri una volta fatto, eccolo qua, ridimensionamento immagine, quindi attivo, lo teniamo sul 75%, scendo fino a giù fino a trovare il filtro anisotropico lo metto controllato dall'applicazione, scendo fino a giù il filtro struttura ottimizzazione campione, metto attivo scendo fino a giù, scendo fino a trovare questo no, questo no, tecnologia monitor compatibilità G-Sync veloce di aggiornamento perfetto, la più elevata disponibile e basta, una volta fatto fai applica e migliorerai così la qualità video sul gioco ovviamente Nvidia App dispone anche di un filtro, quindi se premi Alt più Z, apri così questa interfaccia e c'è scritto qua filtro di gioco, ed eccolo qua quindi in questo caso se tu stai nel gioco puoi applicare dei filtri il filtro riguardo anche alla nitidezza lo applici e aumenti la nitidezza migliorando anche se così l'immagine, la qualità video sul gioco invece per AMD io non ho AMD quindi non so come spiegarti questo pannello di controllo di AMD quindi tu scarica così questo programma vai direttamente su display oppure direttamente su grafica gaming qualità e vedere se lì puoi migliorare la qualità aumentare la nitidezza migliorare così anche la distanza visuale il filtro anisotropico e ottimizzare la qualità sul tuo gioco preferito quindi questo era su come migliorare la qualità e nitidezza sul gioco per vedere bene da lontano quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao